E' stata scoperta la targa che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato all'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti al Memoriale Deportati di Auschwitz a Firenze. Alla cerimonia che ha inaugurato ufficialmente dopo l'anteprima di qualche settimana fa il monumento accolto dalla Toscana nel quartiere Fiorentino di Gavinana dopo lo sfratto nel 2011 dal blocco 21 di Auschwitz era presente la Vice Presidente della Regione Toscana Monica Barni. Abbiamo salvato quest'opera che racconta la storia di quegli anni. Entrando in quest'opera si ripercorre tutta la storia dal momento in cui nacquero i fasci littori fino al momento della liberazione. Il Memoriale, costruito come una spirale del tempo, ricorda i 40.000 italiani deportati nel campo di sterminio nazista e di conseguenza a tutti coloro che subirono l'orrore, omosessuali, oppositori politici, Roma e Sinti. Il monumento, ha detto la Vice Presidente, servirà a rafforzare il programma di attività sulla memoria della Regione Toscana, rivolto a tutti, a partire dai giovani.